Ragazzi volete vincere skin o altri oggetti? Dallo shop di Fortnite tutto gratuitamente da parte mia Basta seguire tutti questi semplici passaggi che vi metto qui alla mia destra Iscriviti e attiva la campanellina o commenta con il tuo ID su Fortnite qua sotto nei commenti In modo che poi potrò estrarre alcuni di voi che avranno fatto i passaggi Lascia like e condividi il video con tutti i tuoi amici Guarda tutto il video e infine seguimi su Instagram cecchinato-tv E a raggiungimento ragazzi di 200 like sotto questo video dai commenti Valla appunto estrarò delle persone che avranno eseguito tutti questi passaggi E infine gli regalerò un oggetto su Fortnite Detto questo non c'entra assolutamente niente con i regali Quindi non è un passaggio obbligatorio a fare Però qualora voleste potete supportarmi nello shop con il mio codice cecchinato-nato Detto questo vi lascio al video Buona continuazione Ragazzi bentornati in questo nuissimo video Io sono cecchinato e oggi ragazzi siamo in un nuissimo video su Fortnite Per la previsione del negozio oggetti di domani 9 gennaio 2021 Ma prima di iniziare se non siete ancora iscritti mi raccomando iscrivetevi con la campanellina Lasciate un bel like e condividete il video con i vostri amici E se ancora non l'avete fatto seguitemi anche su Instagram cecchinato-tv Detto questo ragazzi direi che possiamo subito incominciare Vi ricordo di commentare qua sotto nei commenti Con cosa vorreste nel negozio oggetti Cosa pensate che possa uscire E detto questo ci richiamo subito in partita E andiamo insomma a provare ad azzeccare gli oggetti di domani 9 gennaio Inoltre ragazzi sono pure usciti oggi 8 gennaio gli alpini Quindi resteranno sicuramente per un paio di giorni Non uscivano veramente da tantissimo quasi un anno Quindi mi raccomando se li acquistate usate il mio codice creatore C'è chi nato nato esattamente questo minuscolo o maiuscolo non fa differenza Basta che lo mettete e potrete supportarmi Ringrazio ovviamente di cuore ognuno di voi che lo utilizzerà Iniziamo ragazzi subito dalla zona in evidenza Quindi insomma la parte un pochino più importante E come primissimo bundle che voglio mettere come probabile uscita E proprio quello dei supereroi ragazzi Me lo state chiedendo in tantissimi e sì non so se avete visto il video news di oggi Delle 13 guardatelo mi raccomando perché oltre a Grefg Insomma che si potrà ottenere gratuitamente attraverso il torneo Dico delle cose importanti sia per quanto riguarda i supereroi E sia per Marshmallow quindi mi raccomando andatelo a vedere Se volete qualche info in più Però come primo bundle voglio mettere questo E lo metterò anche nei prossimi giorni siccome ha molta probabilità di uscire Se volete sapere il motivo guardate il video news Il secondo set che metto è quello della musicista Quindi se non sbaglio Accordo Potente E poi questa altra sua diciamo collega molto carina 1500 V-Bucks il suo costo E invece per Accordo Potente vabbè la conoscete tutti 2000 V-Bucks Non escono tutti i due set da diverse settimane Quindi aspettiamoceli presto nel negozio oggetti Siamo adesso ragazzi al prossimo set ed è quello di Marshmallow Anche questo uno dei bundle più richiesti Che mi chiedete nei commenti E si ragazzi ha molta probabilità di uscire nei prossimi giorni Ripeto il perché hanno molta probabilità Lo trovate nel video news di oggi Quindi andatelo a vedere E quindi metto come terzo bundle possibile in uscita Proprio quello di Marshmallow Ovviamente set completo E come ultimo bundle possibile in uscita Ragazzi voglio mettere quello di Raptor Ha molta possibilità di uscire comunque nei prossimi giorni Io lo metto come probabile uscita E non esce da ben 75 giorni Veramente una marea di giorni Quindi aspettiamoci anche questo bundle Presto nel negozio oggetti Insieme ovviamente anche al suo piccone Siamo adesso ragazzi ai possibili set in uscita Che potrebbero quindi uscire sia domani Sia fra due giorni 3, 4, 5 Insomma i prossimi bundle che faranno Insomma la comparsa nel negozio oggetti Come primo bundle E sempre questo Sì anche questo bundle lo metto sempre Perché deve fare la sua comparsa Lo potremo sicuramente presto vedere Sono due skin da 1200 V-Bucks Insomma li conoscete ormai bene Il prossimo set è quello del Pipistrello Anche questo 1200 V-Bucks Ma ha veramente tantissimi stili Ed è uno dei bundle che dovrebbe arrivare Nelle prossime settimane Il prossimo bundle ragazzi è quello del Vampiro Skin molto carina 1500 V-Bucks il suo costo E non esce veramente da tantissimo tempo Quindi anche questo probabilmente Lo potremmo vedere presto E non esce per l'esattezza da 70 giorni I prossimi set invece sono quelli Dello standard Che però vi dico subito Che non li vedremo presto questi Nel senso che essendo usciti Gli alpini secondo me Non li droppano subito Quindi dovremo aspettare qualche settimana Ancora per questo bundle Comunque tranquilli Che uscirà comunque in tempi diciamo brevi Se così possiamo dire E poi il secondo bundle invece è quello dei militari Insomma questa versione qua Molto carini Tutti e due 800 V-Bucks Sia il maschio e la femmina Il prossimo set in uscita è quello dei Ninja Ragazzi questo set dovrebbe arrivare molto presto 1500 V-Bucks il costo delle due skin Insieme ovviamente a tutto il suo set Con Deltaplano e Piccone Ultimo set che dovrebbe arrivare presto nel negozio oggetto È proprio quello della skin hamburger E anche quella della pizza Queste due skin non escono veramente da tantissimo ragazzi Più di un mese sicuramente Quindi anche questo set lo potremmo presto vedere Siamo adesso ragazzi alla zona giornaliere Come prima skin che secondo me potrebbe uscire È proprio quella di starter Skin che non esce da diverse settimane Molto tra i alder e amata dei giocatori La potremmo vedere presto Nel negozio oggetti Quindi insomma speriamo che sia la volta buona Le mie skin che secondo me potrebbero arrivare Sono la studentessa Che non esce da diverse settimane Quindi più di un mese se non erro Quindi molta possibilità di uscire 1200 V-Bucks il suo costo E come seconda skin È proprio questo Una specie di Insomma militare Con una bandana gialla Insomma militare non c'ha niente Però noi li chiamiamo lo stesso così Ha molta chance di uscire Perché non esce da esattamente 30 giorni Quindi di solito sapete che Quando non escono insomma da più di 25 giorni Barra 30 Le skin hanno molta possibilità di essere di nuovo rimesse Quindi la metto come probabile uscita Al suo costo ovviamente di 800 V-Bucks La prossima skin è questa 800 V-Bucks anche questa Se non sbaglio si chiama Il incognitore della giungla se non erro Molto molto carina E la potremo anche questo presto vedere Io lo metto come probabile uscita di domani E non esce ragazzi da esattamente 27 giorni Quindi comunque ha molta possibilità di uscire Come ultima skin che secondo me potrebbe uscire domani È proprio quella dell'agente segreto 800 V-Bucks Anche per questa skin E non esce da esattamente 35 giorni Quindi insomma la dovremmo in teoria vedere molto ma molto presto Siamo adesso ragazzi ai picconi Abbiamo 3 picconi oggi Il piccone Bacchetta Stella Che è uno dei prossimi a dover in teoria arrivare nel negozio getti Poi come secondo piccone metto il piccone arcobaleno Insomma questo qui che cambia colore E poi come ultimo piccone che secondo me potrebbe uscire domani È proprio fortuna Se non erro si chiama È il piccone praticamente della skin di prima Che vi ho fatto vedere con la bandana gialla Quindi essendo che la skin dovrebbe uscire Dovrebbe uscire anche il suo diciamo piccone nel negozio getti Questi invece ragazzi sono i 3 balletti Che non escono da tanto tempo E che hanno molta possibilità di arrivare E niente ragazzi Detto questo per oggi è tutto Spero che il video vi sia piaciuto Mi raccomando guardate anche quello news Per insomma avere delle notizie aggiornate Per quanto riguarda fortnet E detto questo noi ci vediamo domani Bella